Noi abbiamo iniziato il nostro percorso nel mondo della musica, le prime cose che abbiamo fatto sono dei giochi, attraverso questi giochi abbiamo imparato la differenza tra un suono lungo, un suono corto, trascendente, discendente, piano, forte, eccetera, eccetera, e poi abbiamo affrontato delle canzoni, attraverso queste canzoni abbiamo imparato a riconoscere le altezze, abbiamo visualizzato queste altezze diverse con dei gesti che corrispondono a ciascuna nota, possiamo precisare che il metodo dal quale prendiamo questi gesti si chiama Kodai e lo mettono un galese che, vabbè, si usa già da tanti anni. Quante altezze abbiamo toccato? Quattro. Chi dice cinque? Erano quattro, eh? Arti ci dice cinque. Noi! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seconda riga, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terza riga, 1, 2, 3, 4, 6. legnetti, tamburelli, quindi legnetti prima in terza riga e tamburelli la seconda e la quarta. Pronti? Uno, due. Facciamo il contrario rispetto a come abbiamo fatto adesso. Quindi chi fa la prima e l'ultima? Bravissimi. E la seconda e la terca la faccio con i tamburelli. Pronti? Uno, due. Amorelli. Il tamburelli è emozionato, l'ultima e l'ultima e l'ultima. Emozionato? Prima la cantate voi, dopo noi. Dobbiamo ricaricare. L'ultima e l'ultima. Grazie. 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 Grazie.